Ciao, benvenuti a tutti, eccoci qua, un'altra direttina al volo anche oggi, ma non è neanche preannunciata questa diretta, quindi potrete dirmi tutto quello che volete, aspettate che mi sistemo il microfono, se si connette qualcuno bene, se no ve la vedrete poi in un secondo momento indifferita, vedrete la registrazione. Ieri abbiamo fatto un bellissimo webinar, mi sono divertito un casino, abbiamo parato un bel po', andatevelo a vedere, se vi capita, il webinar è appunto quello che abbiamo visto ieri, è stata tutta un'intera lezione sul social selling, su come vendere di brutto sui social, è un po' quello che ho visto, le domande che vedevo erano anche rivolte a chi magari stava per iniziare, cioè come devo fare a iniziare a vendere sui social, ecco magari oggi ne possiamo parlare un attimino, mi raccomando quando vedete questo video mettete like, ok, facciamo un po' di share, condividete, chiamate i vostri amici, chiamate la vostra zia, la mettete di fianco, vi fate un bel caffè e ascoltate questo gran cretino che parla, quindi guardo solo di essere live, dovrebbe essere tutto a posto comunque, se riesco a aprire la mia pagina, oggi sembra più difficile del previsto, ieri sera tra l'altro appena dovevo entrare in onda, che erano le 21 precise, mi si impianta Chrome, come è giusto che sia, è praticamente un fattore ritardo perché si era impallato tutto, ma sempre così è, pensate che la prima live che ho fatto importante mi si è impallato tutto il software, per un errore mio, tra l'altro però insomma in qualche modo abbiamo risolto, benissimo ragazzi, ok, ciao a tutti, ditemi se si sente, parliamo di come iniziare, ok, abbiamo visto adesso come iniziare a vendere di brutto, e va bene, abbiamo visto ieri quali sono i meccanismi, cioè cinque elementi per vendere di brutto sui social, che se messi in pratica in fila, come vi ho spiegato, tutto funziona, poi la strategia si applica ogni singolo elemento, però come iniziare? Allora, devo sfatare un mito, c'è chi dice, posso iniziare a vendere sui social anche senza una lira, ho sbagliato ragazzi, la prima cosa da fare è trovare grana, senza soldi non potete fare un cavolo, ok, quindi senza soldi non si fa nulla, dovete immaginare che sia una escort, ecco, Facebook è una escort, se non la pagate neanche alza il telefono per ascoltare le vostre parole, quindi in realtà per iniziare a vendere sui social dovete avere un gruzzoletto da parte, cioè dovete metterci grana, senza soldi non si inizia, quindi la prima cosa da fare è mettere da parte un po' di soldi per fare i primi test, quindi per testare la vostra idea, il vostro target, il vostro format, mettere da parte un pochettino di soldi per comprarvi qualche corso, non è una parte di scherzi che io vi dico, comprate sempre il mio, ciao Francesca Gatto, comprate il mio corso, quello è ovvio perché lo comprate per simpatia, non esiste un altro più simpatico di me che parla di queste cose, ma comunque comprate corsi, fate corsi, io poi vi spiego il perché dovreste comprare il mio corso piuttosto che un altro, che è quello che dovrebbe fare qualsiasi persona che comunica, però informatevi, quindi mettete un pochettino di soldi. Ciao Marco, però sto chiudendo, sì lo so che ci vogliono soldi, ma se sono pochi, cosa possiamo fare? Iniziamo con pochi, oppure dire guarda, se per dire, ti ho detto devi almeno avere 300-500 euro al mese da investire, se non ce li hai, magari ne hai 150, aspetta di accumularne un pochettino, ti compri i corsi, ti metti da parte un po' di soldi e poi inizi, come fanno tutti. Guarda, non c'è proprio santo che tiene, anch'io quando devo iniziare un nuovo business, una nicchia che non conosco, ci devo mettere grana. Se metto scarpe anziché soldi, dipende, dipende, dipende a chi lo dai, Facebook non è né uomo né donna, quindi è difficile. Io arrivo a 150, accumulane un po', ok? Un mese, prendi 150, le metti da parte. Ciao Fabio, ciao Fabio, come stai? Un po' che non ci vediamo. Ne metti 150 da parte, poi il mese dopo prendi le nuove 150 euro che hai, le vecchie 150 te le metti sotto la scarpa e dici, oh guarda, ho trovato 150 euro sotto la scarpa e ne hai 300. Questo gioco lo puoi fare tutti i mesi, funziona ragazzi, è bellissimo. Quindi quando avete un problema fate così, mettetevi i soldi, poi il mese dopo, dice ok, le ho trovate sotto la scarpa. Ciao, ciao Michele, ciao, come stai? Ragazzi, mettete un po' di like, fate un po' di share per favore, siete dei tirchiacci come se si pagassero queste cose qua, mannaggia a voi. Su, forza, incendiate, incendiatemi la pagina. Lo sapete che devo pompare perché sono rimasto senza soldi per la benzina dell'elicottero, e che cavolo. Comunque, come si inizia a fare grana sui social? Cioè, vendere sui social. Come iniziare, ok? Perché non si vede? Vabbè, ok, non si vede più niente. Siamo genovesi, sì, lo so. Scusa, ripeti, ok, cosa vorresti che ripeto? Perché, al mio consiglio, allora, tra lo scherzo e il simpatico, ti ho detto, non spenderli 150, accumulali un pochettino, e poi comincia a metterli su Facebook, ok? Ci va un gruzzoletto per iniziare, ci va un gruzzoletto per iniziare a fare i primi test, almeno, ragazzi, dovete investirle quelle 10 euro al giorno, ok? Sono sparito, ragazzi, funziona tutto perché non ho capito se mi è caduto. Vado a controllare. Intanto ditemi se si vede, se è successo qualcosa. Qua dovrebbe essere tutto a posto. Funziona? Ragazzi, funziono? Ditemi se funziono. Sì, lo ripeto, però non ho capito se sono sparito o meno. Potete aiutarmi? Ti vediamo bene, ok, perfetto. Ritorno impostazione, eccoci qua. Ok, ok, ok. Va bene. Ok. Allora. Sì, sì, perfetto, sì. Ok, allora, come iniziare? Ragazzi, dovete mettere da parte un po' di soldi, ok? Se avete definito un budget, ok? La prima cosa è definire un budget, va bene? Cioè, avete un'attività di qualsiasi tipo, o dovete iniziare un'attività online di qualsiasi tipo, anche che sia vendere un... Volete fare un'attività parallela alla vostra? Ok? Dovete mettere budget da parte. Dovete definire un budget, ok? Io ho budget 5.000 euro per le ads al mese. Devo definire 5.000. Ho 100 euro di budget e non basta. Quelle 100 euro le devi mettere da parte, ok? Ne fai un po'. Lavora il doppio, insomma. Continua a fare quello che hai sempre fatto. Incrementa le vendite. Fai quello che vuoi. Vai a consegnare le pizze. Vai a fare il buttafuori. Fate quello che volete, ragazzi. Però mettete un po' di soldini da parte. E per scherzare, prima ho detto, poi ve li mettete sotto la scarpa e dice guarda, ho trovato 1.000 euro. Investo in ads, ok? E quindi lì, invece di bruciarle, si comincerà piano piano a fare tutte le cose che ho detto ieri nella diretta. Se ancora non l'avete fatto, scaricatevi il corso. Adesso vi metto il link. Corso gratuito. Ok? Il video corso gratis. Smettila di fare le ads. L'avete fatto tutti? Vi metto il link. Perché quel corso lì, ragazzi, è bellissimo. Il sacco di valore aggiunto in più, poi, porta a una promo fantastica del mio corso. Le ads non servono ad un razzo, ok? Lo metto, lo fisso in alto qua. Andate a farvelo, ok? Quindi, ragazzi, come si inizia? Allora, la cosa primaria da fare, la prima cosa da fare, ragazzi, è mettere da parte un gruzzoletto. Quindi ci vanno un po' di soldi. Se avete già un budget da poter definire, da mettere, ok, si inizia. Start, ok. Cosa devo fare? Io sono un soldato, come faccio a mettere da parte? È un bel problema. Come si fa a fare una startup, ragazzi? In qualsiasi modo, in qualsiasi punto del mondo dove vi troviate, quando dovete fare una startup, quindi anche se voi dovete cominciare a vendere su Facebook, è una startup. È una startup della vostra azienda. Cioè, state elevando la vostra azienda a livello marketing, quindi la state re-ingegnerizzando, e quindi siete di nuovo appunto startup su quello, ok? Quindi, in realtà, dovete ricominciare. Come si fa una startup? Ragazzi, ci sono... Cioè, o i soldi li siete messi da parte e li avete, o i soldi ve li fate prestare, oppure altre soluzioni non ce n'è. Il bootstrapping, che è anche l'arte di cominciare a investire guadagnando. Cioè, faccio la prima vendita, reinvesto, vendo due. Cioè, il bootstrapping esiste, ma senza una benzina di partenza, anche minima, non riuscirete a fare nulla. Cioè, ci va sempre un carburante che accenda la miccia, ok? Ragazzi, state mettendo un po' di like, che vi vedo scarichi. Sto facendo proprio... Adesso diventerò... Lo ricordate? Baffo. Quello che vendeva così, ecco, sarò uguale, ok? Proprio venditore pure. A parte tutto, quindi quando avete un gruzzoletto da parte, si inizia, ragazzi. Start, ok? La cosa primaria è avere le informazioni giuste. Quindi, studiate, impegnatevi, cercate di avere quello che serve per non fare cazzate. Poi, da lì, si intercetta il target, si intercetta la domanda di mercato a cui mostrare la vostra soluzione, ok? Quindi, c'è una domanda di mercato a cui io posso dare una risposta con un prodotto servizio? Sì, ok? Cioè, no, ok, non farlo, va bene? Non è possibile vendere parrucche in un mondo di pelati e non è possibile vendere maschere da sub, insomma, a Cervinia. Non funzionerebbe molto, ok? Quindi, in realtà, ragazzi, dobbiamo avere una ricerca di... Cioè, se nessuno compra una cosa, probabilmente il mercato non c'è. Come dicevo ieri, gli inventori muoriono magri e gli sfruttatori muoiono grassi. Quindi, io, per voi, spero una morte più grassa possibile. Quindi, in realtà, dovete sfruttare il momento giusto dando al mercato qualcosa che vuole. Ci deve essere il mercato, ok? Ci deve essere la domanda di quella cosa. Va bene? Poi la concorrenza è un discorso a parte, però ci deve essere la domanda. Una volta fatto quello, si trova il target preciso e si crea un format. Quello che vedete voi adesso è il mio format di informazione, ok? Io parlo... riesco a abbassare un po' questo. Si sente bene, tra l'altro? Sto provando varie posizioni del microfono, filtro, non filtro? Che dite? Pensa quanto sono malato, cerco di centrarlo alla telecamera. Quindi, il discorso è quello, ragazzi. Cioè, come si inizia? C'è un grozzoletto, c'è un grozzoletto, le informazioni giuste, un target giusto, un'idea da mostrare e un format da mettere in piedi. Io ho questo format qua, format delle informazioni, poi in realtà sono un po' eloquente, sono una persona che piace parlare con gli altri, insomma, a me viene bene fare questo tipo di vendita, no? Che è una vendita di informazione. Io faccio informazioni finché poi non vi vendo qualcosa. In qualche modo cercherò di spillarvi dei soldi dalla carta di credito, ok? Ed è quello che voi dovreste fare, anche voi nel vostro settore, cioè vendere, vendere tramite un processo educativo, ok? Si educa il potenziale cliente sconosciuto a diventare un nostro acquirente cliente e soprattutto fan che ci sponsorizza. Questa educazione è un funnel, ok? Guardatevi la diretta di ieri, è un funnel che io devo creare per portare step by step le persone a essere fidelizzate. Quindi per farlo bisogna mettere in piedi quello che abbiamo discusso ieri, quindi mettere su un'idea, avere un target, un format del budget è un funnel. Quello che è da fare è quello. E poi lo potete fare in qualsiasi settore, cioè, fatemi dire, domani vi svegliate e volete cominciare a vendere qualcosa online, vendere infoprodotti online, volete fare gli esperti di marketing online? Benissimo. La cosa da fare è questa, funziona in tutte le nicchie, ragazzi, così. Poi ci sono gli aggiustamenti da fare qua e là, sito, non sito, landing page, dove entro, ma il social selling è un processo educazionale che deve essere fatto con un format specifico per il social, ovvero per, in questo caso, Facebook. Non è molto difficile, non va molto lontano, cioè, la base del marketing, ragazzi, è sempre semplice. Diventerò scemo a dirlo, mi uscirà la schiuma della bocca. E la base del marketing deve essere semplice. Bisogna fare quelle quattro cose fatte bene che portano l'80% dei risultati. Poi, da lì, sull'autobus ti stanno guardando strano, ma perché mi sentono? Aspetta. Potrebbe essere divertente, così. Dovete fare quelle azioni che portano l'80% dei risultati, quelle azioni semplici, poi da lì si scala la difficoltà. Ok? Da lì in poi ci andremo a preoccupare se è una cosa, è come sofisticarla, come renderla difficile, va bene? perché se partite complicati, vi ritrovate solo una testa piena di informazioni confuse, non capirete nulla, e alla fine tornerete da me e dirmi, Marco, io ho speso 26.000 euro di corsi e non ho capito un cazzo quello che è successo al mio studente privato. Quindi, in realtà, ragazzi, fate le cose fatte bene con calma. Non lo so che sono bipolare, a volte sbraito e poi mi calmo di colpo. Ok? Le cose fatte con calma. Vi mettete lì, create il vostro format per presentare la big idea al vostro target. Ok? Qual è il mio format? Fatelo voi. C'è quello delle informazioni, potreste far ridere, insomma, ce ne sono mille. Ok? Quello che voi sentite anche più a vostro agio. Io per dire sto facendo le dirette perché le dirette funzionano bene. Funzionano bene con l'algoritmo di Facebook. Non è che lo tengo nascosto e le faccio dicendo che perché mi viene più facile. No, l'algoritmo me le premia e quindi le faccio. Ma ve lo dico. Ok? Come vi sto dicendo, sto facendo un percorso educativo per dirvi di comprare il mio corso. C'è un video gratuito, in realtà sono tre video gratuiti che si chiamano Smettere di fare le altre. Poi ti verrà fatta l'offerta. Adesso, recentemente, ho alzato anche il prezzo. Ho alzato il prezzo di smettere, scusa, le ads non servono un razzo. L'ho portato a 147 euro. Però, se prendi in promo, lo prendi ancora a 59. Quindi, in realtà, beccatevi il corso gratuito e potrete avere quello. Ciao, Davidino! Grande! Grande, Davidino. Il grande Trinki. E quindi è giusto farlo perché il processo educativo deve essere quello. qualsiasi lavoro che voi facciate potete fare una cosa del genere. Qualsiasi. Non esiste settore che non ci ho lavorato col marketing. La cosa da fare è quella, cioè informare. Una volta, cosa si faceva, ragazzi? Pensateci bene. Cioè, come andavi a procacciarti il lavoro? Ti alzavi la mattina, ti consumavi le scarpe, andavi a bussare alle porte, sfondavi la porta a testate pur di avere il lavoro. Ok? Quello si faceva. Oggi i social ti permettono di farlo ugualmente, ma lo devi fare nella maniera più idonea e consona ai social. Qual è la maniera più idonea e consona ai social, ragazzi? È comunicare. Quello che io sto facendo con voi. Comunicare. Qualcuno di voi, io lo vedo, che comunica sui social, e fa bene. Non dovete smettere. Chiaramente poi bisogna assestare le cose per far sì che ogni livello del vostro funnel per scaldare il vostro pubblico e portarlo da un perfetto sconosciuto a un vostro acquirente cliente fan che paga, ripaga, è contento di pagare, soprattutto fa pagare anche i loro amici, va sistemato step by step con strategie e metodo. Però la base deve essere quella, ragazzi. Non mi vergogna dirlo. Potrei farci un corso a pagamento solo per questo. In realtà ve le sto buttando qua gratis. Ok? E quindi il discorso, ragazzi, è comunicate e se volete iniziare senza soldi non ce la potete fare. Quindi la base iniziale è avere un gruzzoletto. Il bootstrapping, che è l'arte di farlo man mano, cioè vendo a un euro, investo un euro, ce ne faccio due, non funziona. Ok? Non esiste. Non esiste vendere. Cioè, ragazzi, non ce la potete fare. Dovete avere un budget di partenza. Ve lo ricordate? Il cerchio del business, il circolo vita del business. La prima cosa è il denaro. Ok? Poi c'è il marketing e poi c'è il delivery del prodotto. Questo per farla semplice. Ok? Poi si complica perché prima ci sarebbe il mindset della persona. Anche perché se tu, tu dai imprenditori, non cambi testa, cioè, sono finiti i tempi che aprivi la serranda e ti arrivavano dentro le commesse, non le commesse del negozio magari, perché ti arrivava il lavoro così. È finito. Sono finiti i tempi. Oggi bisogna diventare bravi a procacciarsi il lavoro. Per fare questa procacciarsi il lavoro, bisogna seguire. Cioè, lo schema è sempre quello. Denaro, marketing, delivery del prodotto. Ok? Il delivery del prodotto ti consente di avere soldi da rimettere nel marketing e fare tutto quel giro. Pam, 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 pam. Poi il marketing si divide in varie cose. Ok? Però diciamo che la base è questo. Per importanza viene prima il denaro del marketing. Io non ci credo per niente a chi dice, a chi millanta che fa le cose a gratis, ha fatto tutto senza soldi. Ragazzi, non è possibile. Guarda, ci ho provato io che sui social le mani le so mettere o centinaia di mila di euro di ads sul mio business manager passate, non sono riuscito a fare un cavolo. Non ce la fai. Cioè, o ci arrivi perché qualcuno mette i soldi per te o i soldi ce li metti tu. Mia moglie vuole incontrarti per parlare con te. Cavoli. Vabbè, tu lo sai che è la corsia preferenziale, Davidino. C'è neanche che me lo dici. basta che mi telefono, il numero ce l'hai. Ci mancherebbe altro. Ci prendiamo un caffè, mi puoi chiedere quello che vuole. Grande Zaira. Salutala, Saluta anche Asia. Qua ci sono cose di famiglia, famiglia. E quindi, ragazzi, il discorso è quello. Non è difficile, non è difficile. Cioè, non è difficile. Qualsiasi cosa. Pensate quanto è complicato per un dentista, che sono specializzato in odontoiatria strategica, nel marketing per gli studi dentistici. Pensate quanto è difficile. Quanto è difficile in quel settore, perché le persone hanno paura. Cioè, e voi immaginate di avere un qualsiasi attività che è il vostro cliente di base a paura. Mi sembra facile? Grande Davidino. Mi sembra, cioè, è la cosa più difficile del mondo. Quindi, arrivare lì è già che devi metterci uno sforzo in più. Ok? Io quando entro all'Apple Store sono contento. Sono contento di andare a farmi infracicare il culo da loro, perché vado con voglia. Ok? Poi, però, quando devo andare al dentista, cioè, adesso ci vado più volentieri perché sono miei clienti, e mi pagano. Però, in realtà, non è bello andare dal dentista. Ok? Quindi, ci sono, cioè, poi cambia, cambia da settore a settore. Non è vero che tutti i settori sono identici, ma il marketing sì. La base del marketing è semplice. Elisabetta fa una domanda. Quindi bisogna sponsorizzare. Elisabetta, intanto sparati il corso gratuito che ho messo qui sotto. Ok? Che ti dice, appunto, smettila di fare le ads. Perché smettere di fare le ads? Perché se stai sbagliando il tuo sistema di sponsorizzarti sui social, quindi il modo in cui tu comunichi il tuo format piuttosto che il tuo target, stai bruciando soldi. Immaginati che tu metti 150 euro al mese e te li metti in mano così e li accendi con l'accendino e li bruci. Questo è quello che fai ogni mese. Ok? Bisogna imparare a farlo, bisogna ottimizzare questi soldi al massimo scopo possibile. Quindi tutto deve essere ottimizzato per portarti da portare un cliente, un potenziale cliente da essere un cazzo a essere un fan. Questo è. Cioè, non c'è tanto da dire. La semplicità con cui io cerco di trasmettere le cose è quella. Poi la complicatezza, ok? Ce l'andiamo a cercare lo step 2. Lo step 1 è essere semplice. Hai visto un solo video, ti sembra? Ne arrivano tre. Ogni volta che guardi un video, ti arriva il video dopo. Al terzo video, che è l'ultimo, ti arriva il video più l'offerta per comprare il mio bellissimo corso più la Bibbia delle Arts. Dimenticate, questo è figo. Ci sono anche dei bei tips, ma non l'ho fatto mai vedere dentro. È bellissimo. C'è il caso studio che è una figata micidiale. Ce ne sono due in realtà. Poi ci sono i tips, li vedete. E più altre cose. Comunque c'è tutto il corso di le Arts non servono un razzo. Il buon tiziano dice a proposito di far rendere i soldi, quando inizia il corso a tre tappe che ho pagato? Bravissimo, bellissima domanda. Allora, mi sono segnato le date da qualche parte. Non lo ricordo più. Comunque penso che a fine aprile ci sarà il primo webinar FaceFast. FaceFast, vi ricordo che sarà un corso, non lo voglio chiamare intensivo, però un corso che vi spiega praticamente l'80-20 di cosa dovete fare per sponsorizzare. Cioè, tecnicamente, fai questo, questo, quest'altro, pigiasi tre bottoni e sponsorizza. Ok? Quella è proprio la base. adesso non lo potete comprare se non l'avete comprato prima ma poi seguitemi perché metterò altre promo ora e non è impossibile comprarlo. Ok? Cioè, forse c'è ancora in giro qualche link a 247 euro, non lo so. Ciao Laura, ciao Nadia, ciao ciao. Penso comunque Tiziano che se non mi ricordo male l'ho fissato per fine mese e poi inizi di maggio abbiamo Instastart e chi ha comprato anche la mia consulenza arriverà dopo. Con te Tiziano abbiamo però quel discorso in piedi, ricordati. Quindi ragazzi, mettete da parte i soldini, Nadia ha preso pure quello, bravissima. Non so, non c'è più, non so neanche a quanto era uscito. non mi ricordo, era 100, fatemi vedere quanto costa, non mi ricordo più. Non mi ricordo più. Spacca social. Vediamo un po', non l'ho dimenticato. Lancio di spacca social. Vediamo a quanto l'ho messo. 247 euro, sì. Difatti, ragazzi, cioè io, pensate che scherzo, ma io poi il, Francesca dice, preso tutto. Brava, bravissima. Eh, tu l'hai pagato 149, Nadia, perché l'hai comprato in promo. Adesso sta a 247 euro. Come? Il corso, le ads non servono un razzo. Oggi l'ho portato a 147. 147. Guarda, te lo dico subito, ce l'ho segnata qua, le date, tanto che siete qui, ve lo dico. Elisabetta, ma quando era sta cosa? Te lo sei perso? Ma le leggete le mie e-mail, porca miseria. Allora, intanto vi dico quando è la data precisa, me le sono segnate qua. Minchia che sfiga che hai, tiziano. No, è il 26. Il 26 aprile dovrebbe essere Face Fast, comunque tra quei giorni me lo organizzo, è il 17 maggio Insta Start. Va bene, comunque l'avrei comunicato una settimana prima. Ok? Elisabetta, intanto, se poi vuoi prendere Spacca Social ti arriverà comunque la promo anche a te, una volta che hai preso le alzo non servono un razzo. Quindi comprati quel corso e poi ti arriverà la promo. Per il resto, ragazzi, quindi importante è non bruciare soldi. Cioè, dovete avere un budget mensile. Elisabetta, guarda, io ce l'ho qua, però la promo era... Se tu avessi acquistato in promo, era un prezzo buono, adesso ho 2,47, perché poi ragazzi i prezzi li alzo e vi dirò di più, vi dirò di più. Dovete fare anche voi così, cioè, non si scappa da questo. È una questione di valore, ok? Tutti questi corsi qua, tutti questi corsi, andranno a finire, e non è una balla perché è già scritto là dietro, andranno a finire nel mio corso, che sarà un'academy completa, ok? Dentro a quest'academy ci saranno tutti i miei corsi che non si potranno comprare se non comprando tutto il pacchetto e costerà mille euro. Quindi, adesso potete, avete la possibilità di acquistarli quando metto le prove, prendetevele ragazzi, perché io poi li fico tutti là, Non c'è santo che tiene. Io vendo i ticket, è il mio modo di fare marketing è quello, è anche il mio modo di spiegarvi di fare marketing. Voi dovete fare profitto, dovete alzare i profitti, ok? Soprattutto perché sono informazioni che io stesso ho pagato bastano decine di migliaia di euro, ragazzi, ma di più, di più nel tempo. Quindi, per portare queste informazioni a voi, è ovvio che io ve le faccio pagare. E quindi, quello che voi dovete fare poi, è quello che io spingo nel mio percorso, cioè portarvi a avere alto profitto, ragazzi. Non possiamo lavorare per noccioline, alti profitti. Bisogna impostare le cose per l'alto profitto, perché come dicevo ieri, quando tu vai al cinema, tu non puoi mettere il biglietto del cinema a 3.000 euro. Ci sono i modi per upsellare, però ci sono anche i premium price del cinema, ovvero se ci sono quelli destinati all'1% di persone che si vogliono prendere l'area riservata con il divano che allungano i piedi e il cameriere che gli porta il gin tonic. E io sarei uno stronzo di questi che lo pagherei volentieri, cioè vado una volta in meno ma voglio il premium. quello faccio. Quindi il mio percorso di social selling che partirà a breve, quando finiranno questi webinar che sto vendendo adesso, poi ficcherò tutto nel pacchetto unico. Perché per me c'è meno customer care, c'è meno rottura di scatole. È vero che sono vendite in meno dal vostro punto di vista, ma il margine è più alto, è meglio vendere di meno. ok? Online, ragazzi, funziona di più. Seguitemi nel tempo perché vi porterò a fare queste cose. Vi porterò, vi insegnerò a fare tutto questo. Ok? Buon ragazzi, questo è un orario buono, eh, le sette mi piace. Mi piace perché c'è più gente, c'è più engagement, spara, le sette è buono. Le ho provate tutte, ieri anche le nove era buono. Tra l'altro mi si è fumata la scritta, non vedo più niente qua. Vediamo se leggiamo i commenti qua. No, sono proprio spariti. Ogni tanto fa così, dovrei aggiornare, però se faccio il refresh cado, quindi preferisco non farlo. Sono belle le scritte che compaiono qua sotto, però ogni tanto, ahimè, fa così. Va bene ragazzi, direi che per oggi è tutto, quindi abbiamo visto come fare a aumentare, cioè come fare a iniziare. Come si inizia? Vediamo se l'avete capito. Come si fa a iniziare se voglio vendere sui social? Adesso voi uscite andate a farvi lo sprizzino al bar e qualcuno vi dice oh, oh, com'è che si fa a iniziare a far vendere i social? Cosa gli rispondete voi? Ditemelo va, scrivetemelo in chat, vediamo se l'avete capito. Nadia dice che oggi è Tempaccio. Ma stamattina qua pioveva, adesso poi si è un po' sistemato nel pomeriggio, sono uscito, è un cliente, non c'è nessuno in giro. E sì, qua i torinesi uguale, quando piove non li vedi, mamma mia, sono come le lumache, porca miseria, escono subito dopo la pioggia, li vedi. Va bene ragazzi, comunque mi raccomando, allora, ricordatevi, per iniziare o per resettare il vostro business, perché è giusto anche dire che magari a un certo punto uno debba dire basta, non è più possibile andare avanti così, devo re-ingegnerizzare tutto, quindi tu ritorni in fase di start-up. Cioè, anche se la tua azienda è avviata, comunque re-ingegnerizzandola, c'è una parte dell'azienda, il marketing dell'azienda in fase di start-up, quindi tu gli devi mettere dentro dei soldi per farlo funzionare. Non c'è fantascienza, non c'è legge dell'attrazione che esiste. L'unico modo, vi ho detto, per trovare i soldi sotto la scarpa è che il mese prima li risparmiate e li nascondete, poi vi rinfirate sotto la scarpa e ti dice, cazzo, ho trovato i soldi per fare le azze questo mese, che culo. Non c'è una terza opzione. Va bene ragazzi, quindi vi saluto, mi raccomando, continuate a seguire, fatevi sto benedetto corso gratuito, sta a venire a nausea e comprate queste azze che non servono un razzo, diventate soprattutto dei studenti del razzo, vi faccio poi anche entrare in un gruppo dove butto ogni tanto della roba in più, non è un gruppo assiduo, non si rompono troppe le palle, non si commenta, cioè si commenta solo, però non si pubblica niente, ogni tanto metto degli extra, soprattutto dopo che gli studenti del razzo saranno avanzati, quello sarà un gruppo molto di qualità. Va bene ragazzi, buona serata e ci vediamo, penso, domani. Ok? Tra un po' te la compro la casa, grande repo, ma io non sono per acquistare la casa, cioè al massimo te la vendo, non sono mai per acquisti, io affitto, ho questa filosofia di vita di non comprare ragazzi, affittare, affitto tutto, affitto, non ho neanche la macchina, pensate un po' te, però se devo prendere un aereo, cerco di andare in business, è chiaro che poi dipende se trovo il biglietto, però non avere e avere la liquidità, ecco, quello è un altro esempio, non avere non avere un mutuo per me è un fatto di una fortuna di poter essere liquido e questo mi può permettere di investire quei soldi che investirei lì in altre cose che mi rendono di più, quindi il discorso è se dovessi comprare una casa è un discorso molto complicato e ci sono persone in Italia che te lo sanno fare meglio di me, formatori molto bravi nell'immobiliare, io non sono un formatore immobiliare, ok? Ciao Fabio, buona serata a te, però il discorso è questo, se tu impegni un capitale per una casa e ci vai a vivere, automaticamente è bloccato un capitale che ti potrebbe servire per fare degli investimenti a maggior profitto, quindi in realtà se tu dovessi comprare una casa l'idea più furba che tu potessi fare è affittartela e affittarla a qualcun altro, questo perché è solo per una questione mentale di mentalità finanziaria, ok? Poi è chiaro che se c'è quella casa che ti piace e sei appassionato di quella casa in particolare con i soldi fai che cazzo vuoi ragazzi cioè paremoci chiaro ma se non hai soldi e ti devi impegolare con un mutuo fino alla testa per comprare una casa e poi non avere i soldi neanche per investire magari in alz, muoverti e capisci che non va bene un vincolo troppo grosso ecco perché io non avrò mai una casa di proprietà finché non diventerò rincoglionito che dico prendo i risparmi e li butto in una casa non lo faccio piuttosto compro una casa e magari faccio un flipping immobiliare piuttosto che compro uno stralcio e lo rivendo lo ristrutturo insomma lo affitto ai studenti o mille cose ma non è il mio settore non sono ho fatto un sacco di corsi in realtà non so se qualcuno di voi ha mai fatto dei corsi io per un periodo ho lavorato con Alfio Bardolla non proprio nello specifico nella BTC ma ho lavorato in Smart Business Lab però ho avuto modo di frequentare i corsi insomma avevo fatto i corsi immobiliari sono molto interessanti perché comunque effettivamente la mentalità finanziaria sull'immobile in Italia è diversa diversa come nel mondo nel mondo non si comprano le case si affittano va bene ciao Repo ciao a tutti ragazzi buona serata ci vediamo domani ho detto anche con ci vediamo domani ciao a tutti